Azzegnano è sempre all'avanguardia. Abbiamo acquistato come ufficio ambiente questo strumento tecnologico che ci permette di monitorare, anche se non proprio scientificamente, però di monitorare i livelli di inquinamento dell'aria. Come possiamo vedere già da oggi abbiamo fatto un esperimento e essendo una giornata ventosa l'aria è pulita, infatti il PM10 è a livelli bassissimi, a differenza di qualche giorno. Chiaramente questo non è uno strumento ufficiale che utilizziamo per le ordinanze e per il monitoraggio, ma ci serve a noi, visto che non abbiamo una centavina dazzegnano, di poter verificare quotidianamente, quando ne abbiamo bisogno, quanto è inquinata la nostra aria. Quindi con questo piccolo telecomando riusciamo a verificare e monitorare i vari inquinanti nell'aria. Grazie.